Ecco come guadagnare con ChatGPT Ciao sono Antonio imprenditore digitale In questo video quindi andiamo a vedere un altro metodo per andare a guadagnare con ChatGPT Infatti nel mio canale è anche uscito un altro video a riguardo Lo trovate sempre qui di seguito di fianco a me nelle schede Ma comunque adesso andiamo a soffermarci su quello che riguarda questo video in particolare Allora sono dentro ChatGPT Quindi praticamente adesso per ora c'è la problematica del garante per la privacy Che ha bloccato in Italia ChatGPT Quindi sempre basta andare ad usare una VPN come ProtonVPN Che tra l'altro appunto si può avere gratuitamente Quanto meno per un certo limite di tempo Insomma quanto meno si può usare gratuitamente Quindi insomma io attualmente sto usando questa E quindi poi mi collego ai Paesi Bassi Così appunto anche voi potete usufruirne di una VPN gratuita E non dovete nemmeno pagare Poi appunto andate su TryChatGPT E poi dovete fare il login al vostro account Oppure vi andate a registrare Io già il login l'ho fatto E quindi qui posso avviare una nuova chat Quindi in questo caso qual è il metodo per poter andare a guadagnare con l'intelligenza artificiale? È quello di andare a vendere un servizio Come ad esempio il copywriting Quindi andare a vendere un servizio anche high ticket Quindi alto pagato come questo Lo si può fare in maniera molto semplice Usando proprio ChatGPT Perché ci scrive proprio dei testi Il copywriting è un tipo di skill Un tipo di abilità che appunto richiede del tempo Per apprenderla Conoscerla a fondo Per poi appunto poterla erogare come servizio Quindi in realtà in questo caso con l'intelligenza artificiale possiamo benissimo Non saper magari scrivere per poter vendere Ma usare l'intelligenza che ce lo farà al posto nostro Quindi ci sono tantissimi business che magari hanno bisogno di andare a fare delle inserzioni pubblicitarie Oppure andare a scrivere in un sito web una determinata pagina di vendita Oppure ancora appunto una pagina di vendita su marketplace Quindi per impostarla per vendere un prodotto che magari mettono all'interno di Amazon Di eBay o appunto di piattaforme simili Quindi ci sono tanti business che magari non sanno che c'è questa possibilità dell'intelligenza artificiale Invece vogliono magari pagare qualcuno che lo faccia per loro E quindi noi possiamo andare a guadagnare in questo modo Quindi ovviamente se parliamo anche di attività locali Come possono essere non so dentisti, ristoranti Magari vogliono sistemato un qualcosa per appunto un annuncio pubblicitario per farsi conoscere E appunto vi possono pagare anche tanto per questo tipo di servizio che voi andate a fare Quindi come possiamo trovare questo tipo di persone interessate a questo servizio O andiamo appunto a farci trovare facendo delle pubblicità per poi appunto essere ricontattati Oppure ancora un metodo gratuito è quello di mettersi su una piattaforma come AppWork Dove appunto possiamo scrivere anche qui stesso copywriting E qui ci saranno appunto varie persone, vari freelancer che vanno a fare questo Quindi possiamo fare i freelancer anche noi e farci pagare anche tanto Magari all'inizio possiamo partire con una cifra più bassa Per poi magari far farmare praticamente il nostro account E far vedere che comunque abbiamo ottenuto già dei lavori Abbiamo delle recensioni in pratica da parte di altre persone che ci hanno assunto E quindi andare a guadagnare proprio da questa cosa Quindi per esempio qui abbiamo una copywriter del Regno Unito Che si fa pagare 80 dollari all'ora Quest'altra dal Pakistan 60 dollari all'ora Insomma anche qui si vede già questa ci fa vedere che ha guadagnato 60.000 dollari Praticamente con 25 lavori, 83 lavori fatti Magari appunto sono suddivisi a seconda dell'attività Magari alcuni sono copywriting e magari ha fatto anche altri tipi di lavori Questo ha guadagnato 8.000 dollari 10.000 dollari, questo si fa pagare 37 dollari all'ora Insomma poi ci sono tantissime persone che appunto fanno questo E noi ovviamente per accumulare anche le prime persone, i primi clienti Possiamo anche farci pagare poco Quindi vedere quali sono comunque i prezzi medi E vedere insomma quale prezzo può essere più conveniente da andare ad introdurre E tanto poi farà chat e gpt tutto il lavoro Quindi è un qualcosa anche che ci permette di trovare appunto Tanti clienti in maniera molto semplice questo tipo di piattaforma E poi appunto man mano che abbiamo un account Diciamo più, con più trust, con più affidabilità Allora ci possiamo far pagare sempre di più Perché vi consiglio più che altro Upwork Perché è un tipo di piattaforma Dove appunto si può intanto guadagnare di più Poi anche diciamo che c'è meno competizione Perché appunto ci sono altre piattaforme come magari Fiverr Che può essere anche più conosciuta Ma appunto c'è più competizione Ci sono tantissime persone che mettono il loro servizio Anche solo a 5 dollari su Fiverr E ovviamente questo non è tanto scalabile Non è facile trovare clienti Mentre su Upwork è un po' più semplice la cosa Quindi poi potete voi contattare persone Così come vi possono loro contattare Perché poi magari le persone vanno a mettere anche dei lavori All'interno di Upwork E quindi voi li andate a cercare Andate ad applicarvi per quel lavoro E poi magari scelgono voi al posto di qualcun altro Quindi è un metodo veramente interessante Un'altra cosa ancora che potete fare Per farvi pagare fin da subito anche tanto È quella di non andarvi a mettere su queste piattaforme Ma fare un vostro sito web Andare a fare praticamente drop servicing E quindi andare a vendere dei servizi Appunto dove il lavoro non lo fate voi Ma lo fate fare o ad un freelancer O in questo caso a chat GPT Quindi un tipo di servizio Che potete impostare in un sito ben fatto Per poi appunto far acquistare le persone da quello Farle convincere all'acquisto Tramite determinate strategie di marketing Così come spiego ad esempio Dentro il mio percorso di formazione Progetto Freedom Quindi qui sotto in descrizione Oppure nel primo commento in evidenza Trovate il mio percorso di formazione Potete vedere meglio in cosa consiste Che consiste anche non solo nel vendere servizi Ma anche prodotti di un po' di tutti i tipi E quindi potete vedere Se è un qualcosa che può fare al caso vostro E nel caso potete decidere di fare accesso al corso Capire appunto come andare a strutturare Un business di questo tipo Per appunto poter guadagnare Anche veramente delle cifre molto alte online Ma adesso andiamo anche a vedere Su chat GPT che cosa gli possiamo chiedere Quindi come possiamo formulare le domande Quindi per esempio possiamo mettere Creami un copy Per la mia attività da dentista Per vendere su Facebook Ads E vediamo che cosa ci va a scrivere Quindi certo ecco qui un esempio di copy Per promuovere la tua attività di dentista su Facebook Siete alla ricerca di un dentista professionale affidabile Eccetera 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 Quindi poi vi crea effettivamente il tutto Veramente in pochi secondi E quindi noi possiamo andare a sfruttare Quello che ci chiede E poi possiamo anche appunto andare a scrivere Creami un copy più lungo Oppure possiamo semplicemente scrivere continua A scrivere insomma qualcosa del genere E quindi così ve lo va anche a modificare Se gli chiedete di modificare qualcosa Potete sistemarla in un altro modo Insomma gli potete chiedere un po' tutto quello che volete E poi chat GPT eseguirà il vostro ordine Quindi poi possiamo scrivere anche per esempio Creami una sales page Per vendere un correttore posturale Per esempio E appunto poi andrà a fare proprio questo Quindi adesso in pochi secondi Andrà proprio a scrivere un po' tutto Quindi il titolo, il sottotitolo E un po' tutto quello che gli chiediamo Quindi possiamo anche andare nello specifico Andare a chiedere per esempio Di fare dei bullet points Quindi appunto dei punti nello specifico Di poche righe Che descrivono il prodotto Insomma poi possiamo specificare anche delle cose Così da essere sempre più appunto Sempre più andare nel particolare A seconda anche di che cosa ci chiede Per esempio quella persona che ci ha richiesto il servizio E adesso io lo sto scrivendo in italiano Possiamo scrivere in qualsiasi altra lingua E lo scrivere in quella lingua Quindi possiamo appunto focalizzarci sul mercato italiano Sul mercato statunitense Sul mercato tedesco e così via Quindi possiamo scrivere in qualsiasi lingua E chat GPT appunto andrà a fare la cosa in quella lingua Poi un'altra cosa che possiamo fare È anche vendere per esempio Un servizio di email marketing Quindi appunto anche possiamo dire A chat GPT Creami una sequenza di 10 email Per vendere un servizio di consulenza Per investimenti immobiliari Così a seconda appunto del tipo di servizio Che magari appunto vi richiedono Magari un tipo di attività di real estate Ecco e qui appunto sta scrivendo tutte le varie email Quindi possiamo sempre anche poi chiederne di ulteriori Eccetera eccetera Quindi un sistema veramente interessante Quindi come vedete veramente in pochi secondi Scrive il tutto Quindi come vi dicevo qui sotto in descrizione Oppure nel primo commento in evidenza Trovate il mio percorso di formazione Progetto Freedom Potete decidere di fare accesso E andare a sfruttare questo metodo Di andare a guadagnare con il business online Per vendere sia prodotti fisici Prodotti digitali Servizi e quant'altro È tutto quello di cui mi occupo ormai da tanti anni E quindi lo vado a spiegare e divulgare Anche dentro questo tipo di corso Quindi appunto se vi può interessare Potete quantomeno vedere nel sito Se è un qualcosa che può fare al caso vostro E poi potete decidere di fare accesso Tramite il pulsante verde che trovate nel sito stesso Quindi detto questo Potete lasciarmi un mi piace Se il video è stato di vostro gradimento Potete andare ad iscrivervi al canale Per vedere i miei successivi caricamenti E noi ci si vede come sempre Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti